Sassari ha aderito con altri 22 centri della Sardegna all'edizione 2016 della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. L'isola partecipa all'iniziativa con il progetto regionale Bici Mi Piaci, al quale fanno riferimento tutte le iniziative sulla ciclabilità e mobilità sostenibile dei comuni della Sardegna. La ciclo pedalata a partecipazione libera si svolgerà lungo il circuito cittadino delle nuove piste ciclabili già praticabili il 21 settembre e sarà l'occasione di inaugurare ufficialmente l'apertura delle corsie lungo i marciapiedi. Il 19 settembre invece si terrà un convegno sulle città sostenibili, nel quale verranno presentati gli sviluppi del piano urbanistico comunale e verranno portate proposte di modelli urbani innovativi. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Ducare dal sindaco Nicola Sanna, che ha approfittato dell'incontro con la stampa per spiegare la decisione dello spostamento su Via Diaz del percorso ciclabile inizialmente progettato per Via Le Dante. Abbiamo dovuto tener conto delle pressioni di cittadini e forze politiche, ha detto, nonostante ritenessimo che l'impatto sul marciapiede centrale di Via Le Dante sarebbe stato minimo. Lo spostamento in Via Diaz, ha aggiunto Sanna, non pregiudica il percorso, ma ci ha costretti a sopprimere altri 66 parcheggi dopo il sacrificio dei 122 previsti dal progetto delle piste ciclabili. Fra i partecipanti alla ciclo pedalata, anche gli atleti della Dinamo, rappresentata nella conferenza dal vicepresidente della società. È un'iniziativa di alto livello che consente di iniziare a fruire della rete ciclabile e anche iniziare a costruire una mentalità che vada verso lo sfruttamento della mobilità sostenibile. Gli atleti si cimenteranno unitamente a tutti gli altri partecipanti con la bici in occasione della ciclo pedalata. Numerose associazioni e società sportive cittadine parteciperanno alla manifestazione.